Il chitarrista Giopatti e Donnello Scalamba Poci eseguono l'anima dolorante di Nietzsche. Quando udiva musica, emetteva suoni sgradevoli, gemeva, soffocava, a vedersi spaventava. Il chitarrista Giopatti e Donnello Scalamba Poci e Donnello Scalamba Poci e Donnello Scalamba Poci e Donnello Scalamba Poci. Il Dienst, data di nascita, professione, ricovero precedente, giorno di dimissione, stanza di seconda classe, marchi 2,50 al giorno di bignone, diagnosi, paralisis compressiva, sinpratta di escrementi, sinpratta di escrementi e bevulina, striscia, non cammina, nei baffi per i bianchi sulla destra copilla dilatata a sinistra diffuso e che zema cronico ai genitali e anche all'anima delicata e gentile del nostro amico Nicci avesse saputo suonare il sassofono questo uomo avrebbe dato fondo ai suoni sarebbero apparsi segni nel cielo e il riflesso dell'acqua lo avrebbe negato avesse saputo suonare il sassofono a questo uomo tutti avremmo ballato grazie